State per entrare in un mondo magico e incantato, in un'epoca di miracolosi prodigi e di creature bizzarri, di esseri mostruosi e imprese miravolanti, le avventure del varone di Munchausen. Posso esservi utile, piccoli mortali? Sono il varone di Munchausen. Insieme ai miei amici sto cercando un uomo con dei polmoni d'acciaio. Uno con una vista eccezionale. Uno con una velocità straordinaria. E uno enormemente grosso e forte. Le avventure del varone di Munchausen. Ah, ecco l'ufficiale che corre rischi superiori al suo dovere. Ho fatto del mio meglio, signore. Giustiziatelo. Vivrete una storia indimenticabile con un personaggio leggendario. Dov'è Bertolt? Se non sarà qui entro tre minuti, il sultano mi farà tagliare la testa. Romantico e astuto, sproffone e intrepido, nobile e avventuriero. Le avventure del varone di Munchausen. Benvenuto sulla luna, varone. Il re della luna, cioè la testa del re della luna. Un trionfo dell'immaginazione. L'evento più straordinario che la storia del cinema ricordi. Ehi, varone, scendete. Dobbiamo tornare a salvare la città. Ma calma, la città non corre pericolo immediato. Le avventure del varone di Munchausen. Quando il potere della fantasia supera ogni limite, è il tempo di non credere ai vostri occhi. Le avventure del varone di Munchausen. Le avventure del varone di Munchausen. Grazie a tutti